Buonasera e ben trovati in questa terza edizione del TG6. In primo piano ancora i problemi legati all'inquinamento atmosferico e in particolare a Pescara. Le analisi dell'Arta hanno svelato lo sforamento dei limiti massimi consentiti del COT, il carbonio organico totale. Da parte del Sanzificio, questione che aveva fatto già discutere nei giorni scorsi, a darne notizia il vice sindaco di Pescara, Del Vecchio. Se ne era parlato tanto nelle scorse settimane. Le emissioni del Sanzificio di Pescara, quelle che avevano creato per diversi giorni anche un cattivo odore nella città. Se all'inizio non era stata data importanza al fatto, oggi si scopre che dalle analisi dell'Arta ci sarebbe lo sforamento dei valori massimi del COT, il carbonio organico totale. Valori inquinanti. Bisogna essere cauti e precisi e questo ho voluto fare anch'io questa mattina dopo aver appreso di questa analisi da parte dell'Arta. L'Arta mi conferma che questo valore di per sé non può essere considerato altamente nocivo per la salute pubblica dei cittadini, poiché è un valore che viene da una sostanza naturale, qual è la sanza. Peraltro questa nota è stata inviata alla provincia di Pescara che sicuramente avrà fatto gli approfondimenti di rito anche la provincia di Pescara e se ci fossero stati gli elementi avrebbe sicuramente adottato i provvedimenti di conseguenza. La seconda notizia poi è quella delle pertinenze. Si è a dare lo stop al sansificio, seppur per un giorno era stata la provincia, organo di competenza, ad annunciare lo sforamento dei limiti invece è stato il comune di Pescara. Ma noi siamo stati tirati in ballo come giusto che sia perché comunque il sindaco è il responsabile della salute dei cittadini. Siamo a stretto contatto i nostri uffici con gli uffici della provincia per il decidere del da farsi. Abbiamo anche fatto svolgere dei sopralluoghi dagli nostri uffici tecnici ma anche dalla Polizia Municipale, sempre supportati dall'attività o dell'Arta oppure dalla ASL. Credo l'ultimo sopralluogo è stato fatto il 29 di dicembre tra la Polizia Municipale e la ASL proprio perché monitoriamo anche noi alcuni elementi, quelli diciamo a noi più di stretta competenza. La cronaca, attimi di paura la scorsa notte per un incendio che si è sviluppato nella cucina dell'albergo di Campo Imperatore. Oltro cento gli ospiti presenti che sono scesi con la funivia presso la villetta. Tanta paura ma pochi danni. Paura in quota ma fortunatamente pochi danni. Stanotte infatti si è sviluppato un incendio all'interno dell'albergo di Campo Imperatore a prendere fuoco la frigitrice della cucina. L'intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha evitato che l'incendio si propagasse altrove e dunque la conta dei danni alla fine è stata molto limitata. Ma il fumo notevole ha provocato la paura degli ospiti della struttura, oltre cento, tra questi anche tanti bambini che sono subito scappati fuori e poi fatti scendere alla villetta con la funivia che ha predisposto corse notturne ad hoc rese possibili grazie all'impianto di illuminazione del tracciato. Gli ospiti, pochissimi hanno deciso in realtà di lasciare il Gran Sasso, sono stati sistemati nei due alberghi della villetta, il Fior di Gigli e l'Hotel Cristallo. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, i carabinieri di Assergi diretti dal maresciallo Liaci, il tenente colonnello Andrea Ronchei e anche due pattuglie della Polizia di Stato. Sono arrivate anche tre ambulanze del 118 che non sono state però necessarie in quanto tra i presenti nessun ferito e nessun intossicato. Da una prima ricognizione sembrava più ingente l'entità dei danni ma in realtà chi di dovere ha verificato che l'unico locale con danni è quello della cucina. L'albergo di Campo Imperatore da poco è gestito dalla società Medice SRLS. Iniziato nel migliore dei modi il 2016 per un'anziana a 72enne di Casoli alla quale ieri mattina i carabinieri della locale stazione hanno riconsegnato un borsello contenente 14 mila euro che aveva smarrito alcuni giorni prima. Gli uomini dell'arma hanno dovuto faticare non poco prima di risalire alla proprietaria dell'ingente somma di denaro dal momento che all'interno del borsello non vi erano dei documenti ma il merito di questa storia agli etofine non è da attribuire soltanto ai carabinieri e doveroso evidenziare sottolineano gli uomini dell'arma in una nota. Anche l'onestà e l'elevato senso civico di un pensionato 66enne anche egli di Casoli che il 2 gennaio dopo aver rimanuto la somma di denaro nel parcheggio antistante il centro commerciale Parco Quadrante senza farsi tentare da cattivi pensieri ha pensato di recarsi dai carabinieri per riconsegnare l'intera somma. La CGL a Pescara annuncia l'avvio di una battaglia contro tutte quelle aziende che lasciano nel precariato migliaia di giovani che proseguono da anni nella contrattualizzazione non inclusiva. Tra le aziende citate c'è anche il colosso Fater. Il 2016 per la CGL si apre con un intento, quello di garantire l'inclusione contrattuale a tutti quei giovani rimasti nel precariato all'interno della stessa azienda ormai da anni. E la CGL si rivolge ad aziende ben precise. Noi abbiamo un accordo importante con l'Alfa Wasserman di Alanno in cui l'azienda dichiara che la prospettiva è il lavoro a tempo indeterminato. Ora il lavoro subordinato a tempo indeterminato non può essere considerato un orpello del passato, un privilegio. È una considerazione della dignità, il riconoscimento della dignità dei lavoratori. Ci sono alcune aziende che rispetto a questo possono dare di più. La Fater, noi crediamo, abbiamo già chiesto, noi crediamo che utilizzi eccessivamente la precarietà. Perché molto spesso la visione che le aziende hanno rispetto al lavoro precario, a queste forme di lavoro precario, è una visione ideologica. Lo diciamo con tutta forma, perché non è vero che la precarietà, il lavoratore precario, è più produttivo. È più ricattabile, ma non più produttivo. Tre propositi del nuovo anno, anche la bonifica di bussi. Dopo tante polemiche e rimbalzi di responsabilità, nessuna notizia ancora del destino di quell'area. Noi siamo stati a guardare la finestra finora, però oggi ci sono le condizioni per passare dagli annunci ai fatti. Ed è necessario che la Regione, se questo è un problema e se questa è una priorità, la assuma nella massima espressione. Perché noi ringraziamo il Vice Presidente dell'Assessore dell'Attività Produttiva, Lolli, ringraziamo Mazzocchi che ci hanno veramente messo di tutto, però notiamo anche che c'è un silenzio assortante del Presidente di questa giunta regionale, Luciano D'Alfonso. Ci dica cosa intende fare e soprattutto convochi le parti per capire se domani è possibile, visto che la Solvay il 31 di ottobre ha detto, abbiamo comunque, il tempo è scaduto, sono passati ulteriori due mesi. Oggi vorremmo sapere se la Solvay è in condizione di chiudere una trattativa con un soggetto economico e quindi se la prospettiva è quella delle bonifiche e dell'industrializzazione oppure se siamo ancora sul vagas dell'attesa. Per questo inizio di 2016 il Sindaco di Tarmo Maurizio Brucchi è in prima linea nella battaglia contro la ASL unica, un impegno anche per richiedere un tavolo permanente istituzionale proprio per affrontare le problematiche legate alle scelte in materia di sanità. Tra le priorità di questo 2016 la personale lotta contro la ASL unica? Ma non è una personale lotta perché non è così. Io credo che la ASL unica sia un errore. L'ho detto e ribadito in più occasioni anche al Governatore, abbiamo fatto un consiglio comunale straordinario per ribadire questo. Sono preoccupato perché con l'applicazione della normativa europea volendo garantire i turni così come l'Europa ci dice ci sarebbe bisogno di 600 unità in più. E allora è il momento delle scelte. Io sono come Presidente del Comitato di Settore dei Sindaci, ne parlo spesso con il nostro Direttore Generale e vorrei convocare un tavolo permanente sulla sanità al quale dovranno partecipare tutti quanti le istituzioni, l'ASL ovviamente, la regione, i consiglieri regionali, per cercare di aiutare la nostra ASL a fare le scelte giuste e noi sindaci magari mettere da parte un po' di campanilismo che non giove in questo momento la sanità. Ripeto, la sanità è importante e io come prima autorità sanitaria la devo garantire nella mia città e direi in tutto il territorio provinciale. Ha avuto risposta positiva sulla richiesta del tavolo permanente? Si farà? Parteciperanno? Ma guardi, è una mia proposta che oggi ho lanciato, vedremo nei prossimi giorni, ma io credo di sì. Credo che tutti i sindaci vogliono dire la loro, tutti gli amministratori vorranno dire la loro su un tema così importante. Mi fa piacere che la regione ha rinviata questa scelta. Io vorrei, insomma, farò la mia battaglia personale perché la rinvide il tutto, l'ASL unica non porta niente, lo dimostrano le marche. La Confcommercio di Pescara interviene in merito ai provvedimenti presi dal Comune in materia di inquinamento atmosferico. Ribadiamo, come sempre sostenuto, scrive in una nota il presidente Franco Danelli, che la città di Pescara non può essere soggetta ad alcun provvedimento di chiusura al traffico. Purtroppo dobbiamo invece constatare che si è decisa l'adozione di un provvedimento di parziale chiusura con accesso a targhe alterne nelle giornate di martedì e giovedì. Si tratta di provvedimenti di facciata che non risolvono il problema smog, ma rappresentano solo un danno notevole per le attività economiche ed una fonte inesauribile di disagi per i cittadini e per chi deve entrare per lavoro nella nostra città. La nostra associazione chiede pertanto l'immediata revoca dell'ordinanza che prevede a partire dal prossimo 12 gennaio l'accesso in città a targhe alterne, anche in considerazione del miglioramento della qualità dell'aria che ha già portato diversi importanti comuni con livelli di inquinamento peggiori di Pescara a revocare provvedimenti similari. Domani partono i saldi invernali e Confcommercio Chieti anticipa le previsioni degli affari sul territorio mentre Compesercenti sottolinea il bilancio negativo delle vendite sotto il periodo delle festività. Quest'anno ogni famiglia spenderà in media 346 euro per acquistare merce a saldo. Alla vigilia dell'inizio dei saldi Confcommercio anticipa le previsioni degli affari e torna a chiedere di posticipare la partenza degli sconti almeno a fine gennaio. Una necessità, secondo il presidente di Confcommercio Chieti, che andrebbe a favore sia dei commercianti che dei consumatori. I commercianti eviterebbero di scontare intere collezioni nel bel mezzo della stagione. I consumatori si vedrebbero praticato una percentuale di sconto maggiore in virtù del fatto che si acquistano articoli di fine serie. Dello stesso parere Confesercenti, che oltre a chiedere la posticipazione della partenza dei saldi, evidenzia i punti sfavorevoli e sottolinea il bilancio negativo delle vendite sotto il periodo festivo, quale conseguenza dei comportamenti scorretti da parte di esercenti che con vari escamotage anticipano l'inizio degli sconti. Bisogna rivedere a livello nazionale con gli incontri appunto nelle conferenze di servizi che si facciano chiarimenti su queste date perché noi siamo in perfetta sintonia che i saldi di fine stagione vengono fatti appunto a fine stagione, quindi alla fine di febbraio, al massimo alla prima settimana di marzo. Sono anni che le associazioni categorie lo sostengono, però purtroppo a livello nazionale non si riesce a trovare un accordo così come sono le chiusure domenicali dei centri commerciali. Non si capisce la motivazione, tutti sanno quale sarebbe la strada da percorrere, però nessuno la vuole percorrere. Le prospettive per quanto riguarda gli acquisti staremo a vedere domani e dopodomani con l'inizio dei saldi in quasi tutte le regioni italiane come verranno presi da salto nelle grandi città i negozi di firme oppure gli autori e da lì si può fare una proiezione se ci sarà un piccolo aumento dal momento in cui sotto Natale si è perso perché si sono ridotti i tempi degli acquisti, i giorni si è lavorato di meno, considerando che ci sono gli escamotage tra messaggi in SMS, promozioni che non sono autorizzate e quindi non si possono fare, appunto per far sì che le vendite vengano fatte lo stesso. Purtroppo i giorni che si è lavorato si sono accorciati per quanto riguarda Teramo, dal momento in cui poi appunto ripeto con il fatto che ci sono degli escamotage che vengono, anche perché la clientela entrando in negozio chiede appunto già uno sconto perché il 5 sa che iniziano i saldi per cui è troppo vicino, poi la temperatura quest'anno non ci ha aiutato perché è stata una stagione mite quindi non si sono venduti i capi spalla, non si sono venduti i capi un pochettino più costosi perché appunto l'utente aspetta il 5 di gennaio che iniziano i saldi. E ora un aggiornamento sulle previsioni meteo ascoltando la voce di Giovanni De Palme di Abruzzo Meteo. Diciamo che siamo già interessati da perturbazioni atlantiche in questi ultimi giorni e la situazione è decisamente cambiata rispetto a qualche giorno fa quando eravamo interessati da una persistente struttura di alta pressione che impediva di fatto l'arrivo di perturbazioni sul Mediterraneo centrale. Attualmente queste perturbazioni che raggiungono la nostra penisola ma è pur vero che non si tratta di perturbazioni consistenti. Tuttavia nelle prossime ore ci saranno delle precipitazioni in particolar modo sul settore occidentale della nostra regione mentre delle schiarite si affacceranno sul versante orientale. ci sarà spazio a delle precipitazioni ma la neve cadrà soltanto alle alte quote di sopra dei 1.9-2.000 metri perché le temperature in quota sono previste in aumento a causa dei venti occidentali previsti in rinforzo soprattutto sulle zone montuose. In serata e in nottata è prevista una temporanea attenuazione della nuvolosità ma nella giornata di domani un nuovo sistema nuvoloso interesserà la nostra regione e si mostrerà più attivo sulla Marsica, nell'Aquilano, sull'Alto Sangro e nel Chietino dove sono previste delle precipitazioni ma occasionalmente qualche pioggia potrebbe interessare anche le restanti zone che si affacciano sul vestante adriatico e anche la fascia costiera ma ripeto non si tratterà di una perturbazione di forte intensità. Poi successivamente invece dopo un temporaneo miglioramento c'è da attendersi un nuovo passaggio di una perturbazione anche nella giornata dell'epipania a partire dalla tarda mattinata questa perturbazione attraverserà gran parte della nostra regione favorendo dei fenomeni da prima sulla Marsica e nell'Aquilano ma stavolta le precipitazioni un po' più decise dovrebbero interessare anche il settore orientale anche la fascia costiera con un miglioramento in serata quindi un'alternanza di schiarite e di precipitazioni con un tempo più chiuso invece sul settore occidentale della nostra regione le temperature sono previste in diminuzione ma soprattutto è soltanto nella giornata dell'epipania mentre continueranno ad essere ben al di sopra delle medie stagionali nelle prossime ore il passaggio di queste perturbazioni complice al rinforzo dei venti dapprima dai quadranti meridionali e poi a seguire di maestrale favoriranno un certo rimescolamento nelle masse d'area dei bassi stati quindi questa è una buona notizia anche se per favorire un deciso miglioramento di questa situazione dell'inquinamento bisognerebbe attendere dei peggioramenti più consistenti che al momento comunque non sono previsti almeno fino alla prossima settimana bungalow al posto delle storiche cabine negli stabilimenti balneari a Pescara la proposta nasce per abbattere le costruzioni che impediscono la vista mare e se ne è parlato oggi in commissione infrastrutture in comune si parla di un nuovo piano per la spiaggia per gli stabilimenti si parla di bungalow al posto delle cabine ci sarà un incontro dove si parla ovviamente di quelle che saranno le condizioni e anche le limitazioni qual è la posizione? ma guardi io ho visto stamattina sulla stampa una polemica che secondo me chi l'ha iniziata se la poteva risparmiare primo perché noi non è un nuovo piano ma è un piano che noi dobbiamo redigere e ci è stato ereditato dalla regione Abruzzo secondo si vuole dare all'interno della ricettività un'opportunità di eliminare tutte quelle brutture che stanno all'interno degli stabilimenti balneari e dare questo premio a chi mette in piedi una situazione di ricettività e consentire forse alla città di Pescara più posti letto e che comunque stiamo parlando di almeno di un 10% dell'aria in concessione quindi ci riferiamo a 30 metri quadri che servono per fare due strutture la posizione del centro-destra sul piano demaniale degli stabilimenti su cosa si concentra in questa occasione? ma innanzitutto si concentra anche sulla possibilità per gli operatori del settore di avere una chance in più proprio sotto l'aspetto di maggior fruibilità dei loro stabilimenti balneari ma proprio aumentando la vocazione turistica quindi la possibilità di trasformare in bungalow le cabine noi la vediamo assolutamente positivamente certo è però che queste nuove strutture non dovranno comunque essere da ostacolo alla vista del mare perché è giusto che si tuteli anche la vista del mare esiste un termine per l'approvazione della proposta? ma io ho convocato questa commissione in via straordinaria nell'interno della sospensione feriale in quanto abbiamo l'urgenza di approvarla entro il mese di gennaio affinché sia applicabile anche alla prossima stagione balneare quindi è assolutamente indispensabile che il piano demaniale venga adottato dal Consiglio Comunale entro la fine di gennaio per arrivare all'approvazione nei mesi primaverili affinché poi già da maggio i balneatori possano dotarsi delle migliorie concesse dal piano regolatore durissimo intervento del direttore d'esercizio degli impianti sciistici di campo imperatore Marco Cordeschi che parla di management industriale mai applicato in 50 anni scelte sbagliate e occasioni perdute per un serio piano di sviluppo sul Gran Sasso un atto d'accusa senza distinguo nei confronti dell'intera classe politica aquilana che negli ultimi 50 anni non è stato in grado di programmare un piano di sviluppo per il Gran Sasso e a lanciarlo non è un esponente della politica locale ma un tecnico Marco Cordeschi direttore d'esercizio degli impianti sciistici di campo imperatore un lungo intervento quello di Cordeschi che parla di management industriale mai applicato da 5 decenni a questa parte di occasioni mancate e di investimenti sbagliati a partire dagli anni 60 e 70 quando l'allora classe politica secondo Cordeschi non fu in grado di capire le proposte di investimento che vennero formulate con conseguente fuga verso altri lidi perdona verso altre vette di potenziali investitori si passa poi agli anni 80 al momento della sostituzione della funivia senza che si fosse pensato però né ad un migliore collegamento con i parcheggi né ad una portata adeguata per gli sciatori negli anni 90 particolarmente penalizzante fu la scelta della sostituzione degli impianti a Monte Cristo che nel 1999 a sole nove anni dalla costruzione avevano già smesso di funzionare critiche anche per la costruzione degli impianti di risalita della seggiovia Fontari che nel 2016 verranno sostituite nonostante la vita tecnica dell'impianto di risalita è o dovrebbe essere di almeno 40 anni fino ad arrivare a giorni nostri con le polemiche dei mesi scorsi tra ambientalisti e operatori e lavori bloccati per la nuova seggiovia bloccati da almeno due anni nonostante il piano d'area fosse stato approvato già nel 2004 insomma una critica feroce e a tutto campo verso la politica da chi per la politica da anni presta servizio il centro turistico del Gran Sasso proprietario degli impianti è di proprietà del comune segno che forse il tempo delle scelte sbagliate senza che nessuno alzasse il dito per dire la sua è ormai un lontano ricordo per l'Abruzzo 4,5 milioni di euro nell'ambito del programma triennale degli interventi del fondo per la tutela del patrimonio approvato dal ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo Dario Franceschini sono destinati a nove progetti due weekend per celebrare la tradizione tutta aquilana legata a Sant'Agnese che da fenomeno di costume popolare si è trasformato in evento culturale previste iniziative in prosa e dialetto oltre a un vero e proprio processo alla maldicenza si arricchisce di novità ed iniziative la manifestazione della pianeta maldicenza legata alla tradizione tutta aquilana della festa di Sant'Agnese occasione in cui la maldicenza la fa da padrone non intesa come pettegolezza o insulto ma come strumento di valenza sociale e le ha l'antagonismo si inizia questo weekend con il simbolico processo alla maldicenza in cui accusa e difesa si affronteranno sul valore endemico della tradizione aquilana tre le novità innanzitutto faremo un processo al pianeta maldicenza un vero e proprio processo in cui il vice sindaco ma soprattutto magistrato di lungo e prestigioso corso Nicola Trifoggi valuterà l'accusa di aver da parte nostra trasformato questa tradizione popolare in un fatto culturale quindi processo al pianeta maldicenza poi ci sarà la tombola Agnesina l'unica tombola aquilana con 99 numeri di 99 personaggi aquilani di una volta e faremo una tombolata per divertirci un po' che sarà un piccolo grande evento e poi in terza battuta l'altra novità è che faremo il festival in sei giornate pensate sei giornate in puro spirito di volontariato in due weekend quindi 8, 9 e 10 gennaio 15, 16 e 17 con il culmine il 17 prima dell'esplosione del 21 gennaio con il concorso Agnesino ormai consolidato di consolidata tradizione siamo all'undicesima edizione ormai stiamo diventando grandi abbiamo anche la responsabilità di crescere e di cercare di mantenere il livello al meglio possibile il dialetto il presidio del dialetto la formula è quella classica con queste piccole grandi novità di quest'anno Clu della manifestazione il 17 gennaio al ridotto del teatro comunale quando le congreghe e le associazioni che hanno risposto al bando si sfideranno a suon di poesie sketch e lavori in prosa tutti rigorosamente in dialetto tutti per pungolare in maniera costruttiva proprio oggi con questa prossima notizia e servizio apriamo la pagina sportiva proprio oggi si è aperto ufficialmente il calcio mercato la sessione invernale che si protrarrà per quasi un mese dunque al via alle ufficializzazioni e alle formalizzazioni delle tante trattative intanto facciamo un primo punto della situazione con questo servizio si alza il sipario del calcio mercato di gennaio con il Pescara pronto ad essere protagonista la società biancazzurra ha infatti un duplice obiettivo mantenere almeno fino a giugno tutti i pezzi pregiati della rosa e rinforzare la squadra con un paio di nuovi innesti per fare il classico salto di qualità non si muoveranno dalla Bruzzo Mandragore e la Padula così come Verri su cui ha messo gli occhi il Bari del pescarese Andrea Camplone dopo la rescissione contrattuale di Bunnoza e ritorno alla reggiana di Mignanelli il Delfino punta ad un difensore il primo nella lista di Pavone Repetto e Domizzi che deve però prima risolvere la sua posizione con l'Udinese per il reparto avanzato sembra sfumato Antonio Piccolo che sta per accasarsi allo Spezia e per questo i biancazzurri stanno pensando al ritorno in riva all'Adriatico di Pasquato che da Livorno si trasferirà a Torino Sponda Juventus per fine prestito il giocatore sarebbe contentissimo di tornare a vestire la maglia bianco-azzurra dopo l'esperienza della scorsa stagione per quanto riguarda le uscite Valotti e Cappelluzzo sono destinati a tornare al Verona mentre il ventenne centrocampista Bulevardi interessa al Messina il bomber Andrea Cocco invece lascerà il Pescara solo per un'offerta economica vantaggiosa per il club del Delfino i biancazzurri torneranno ad allenarsi il giorno della Befana con una doppia seduta a Lanciano sono giorni intensi perché nelle prossime ore partiranno in tanti detto di Piccolo vicinissimo allo Spezia c'è da aggiungere che Puccino è praticamente dell'Avellino Capitan Mammarella Marilungo e Vastola potrebbero salutare la Frentania in caso di richieste importanti sotto l'aspetto economico anche Crecco e Rozzi sono ai saluti a Lanciano potrebbe arrivare Pesoli dal Pescara c'è un ulteriore aggiornamento detto di Piccolo che insomma è destinato alla Spezia c'è un nome nuovo nella lista dei partenti della Virtus Lanciano quello dell'esperto centrocampista Domenico Di Cecco che dopo 5 anni potrebbe lasciare la Frentania non si era molto parlato negli ultimi tempi di una sua partenza erano altri i nomi circolati ma ora è sboccato anche il suo Di Cecco che è vicino ad un accordo con il Catania dunque scenderebbe in Lega Pro Domenico Di Cecco proprio per firmare con l'importante società che sta cercando di risalire dopo la forte penalizzazione che gli è stata infritta questa estate dunque Di Cecco vicinissimo al Catania ricordiamo che la Virtus Lanciano tornerà ad allenarsi domani pomeriggio alle ore 15 allo stadio Memmo di Lanciano sicuramente con qualche volto in meno già questa mattina Raffaele Pucino ha svolto la prima seduta di allenamento con i nuovi compagni dell'Avellino scendendo invece in Lega Pro sul fronte dell'Aquila si è ancora in attesa di una risposta di Emanuele Pesoli che deve appunto decidere tra Lanciano e appunto l'Aquila l'Aquila che a sua volta in uscita sta per perdere il difensore inglese Miles Anderson che ha giocato molto poco nella prima parte di stagione sul fronte Teramo è stato formalizzato un movimento in uscita poco fa riguarda il giovane difensore Andrea Cerqueti che passa al San Nicolò dunque in Serie D un trasferimento a titolo temporaneo fino al prossimo mese di giugno era stato un punto di forza della squadra Berretti allenata da Cifaldi mentre quest'oggi ha parlato in conferenza stampa l'attaccante Giuseppe Lenoci circa le voci di mercato lui ha precisato io sono un giocatore al momento al Teramo e la società non mi ha fatto sapere nulla penso di sì non so a me la società non mi ha detto niente non mi ha parlato di mercato non mi ha parlato di di cessione quindi io per loro sono un giocatore del Teramo io sto bene qui a Teramo dopodiché penso che la decisione aspetta la società nel senso che se la società mi viene a dire che qua non servo allora si può prendere in considerazione l'ipotesi però in questo momento la società non mi ha parlato io ho fatto questa scelta all'inizio e vorrei portarla avanti sarei bugiardo dire di no sicuramente nel momento in cui è stata fatta questa scelta sono state fatte varie valutazioni tra cui quella che ha Como mi è stato detto dall'allenatore che avrei avuto poco spazio e che quindi se è situata una società interessata potevo potevo andare e il Teramo devo dire che ha insistito molto sul farmi venire qua e quindi a quel punto io ho scelto di anche se magari lasciavo la Serie B per venire alla Lega Pro ma non mi interessava perché quello che il mio obiettivo era giocare e dimostrare sicuramente non ho giocato tantissimo però c'è ancora tutto un girone di ritorno quindi più che mettere il massimo impegno tutti i giorni poi dopo le scelte le fa il mister in base alle sue idee a quello che secondo lui è più importante per la squadra non riuscirei a dare un voto un voto a me stesso io posso soltanto dire che ho sempre dato tutto quello che potevo dare sia gli allenamenti ma sia quando sono stato chiamato in causa sia anche per pochi minuti ho cercato di di portare il mio contributo per questa per questa squadra per il terro poi a volte posso essere riuscito a volte meno però penso che è anche difficile poter dare un voto magari non avendo più fatto tante partite consecutive ecco se può essere il periodo della svolta non lo so sicuramente dobbiamo ricominciare dobbiamo ricominciare bene quindi abbiamo due partite in casa però pensiamo hanno aprito la volta ora un ultimo servizio un torneo di solidarietà all'Aquila che ha visto in campo oltre 50 calciatrici a sostegno dell'assistenza alle donne vittime di violenza un torneo di calcio femminile che ha coinvolto più di 50 calciatrici provenienti da tutto l'Abruzzo ma anche da fuori regione in campo negli impianti dell'area sport di Monticchio un torneo organizzato da Sara Mascaretti e di Eleonora Ferella solidarietà e sorrisi in quanto il ricavato della manifestazione andrà in beneficenza a sostegno dell'assistenza alle donne vittime di violenza dalle 15 alle 22 si sono alternate le squadre partecipanti al torneo con un buon riscontro anche a livello di pubblico che ha seguito tutto l'evento un evento che le organizzatrici hanno messo in campo per pura passione e solidarietà e per amore del calcio femminile che loro ormai praticano da anni in questa città un movimento quello del calcio femminile è sano e vincente che all'Aquila ha molte espressioni donne per le donne con il calcio che al di là dei colori unisce finisce qui il TG6 che torna domani con la prima edizione delle ore 14 grazie per l'attenzione e buonanotte e buonanotte e buonanotte e buonanotte e buonanotte